Io provo a fare una riflessione che è un po' in continuità con alcune cose che sono state già dette, in particolare da Roberto Cornelli, ma un po' per sviluppare anche alcune ipotesi. La questione della criminalizzazione delle condotte, a me fa venire in mente che a livello culturale la criminalizzazione delle condotte si avvale di certi discorsi, per esempio tutto il discorso sul degrado urbano, il discorso sul degrado urbano, qui abbiamo parlato già di informazione, sappiamo quanto sia un discorso attraverso il quale anche a livello culturale si svolga questa criminalizzazione delle condotte. Però io vorrei anche provare a fare un discorso più materialistico, cioè individuando due aspetti della questione. Allora, il primo è che comunque di fondo dobbiamo ricordare che la linea dell'istituzionalizzazione, che vogliamo considerarla come istituzionalizzazione carceraria o come pratica psichiatrica, inevitabilmente dobbiamo metterla in relazione agli andamenti della forza lavoro, alle modalità di gestione della forza lavoro. E direi che questa è la cosa principale. Quindi noi sappiamo che in periodi di alta disoccupazione la gestione istituzionale della forza lavoro eccedente, cioè degli improduttivi, comunque aumenta. E questo pone anche probabilmente la necessità di ragionare su come si svolgano le politiche anche di inserimento lavorativo, che tipo di come vengono svolte, se possono essere delle politiche anticicliche o comunque la distanza dalla questione strutturale le rende qualcos'altro. Ma poi l'altra questione è che la criminalizzazione delle condotte attraverso i discorsi a livello culturale non è una cosa che avviene per motivi ideali, diciamo, perché nella cultura la paura si sviluppa, ma è una cosa che avviene perché sul territorio, nei quartieri, insistono specifici poteri che mettono in atto delle dinamiche alla ricerca di certe forme di profitto. Per essere più chiaro, l'espulsione dei poveri dai quartieri di case popolari per la valorizzazione economica dell'immobiliare. I progetti di grande speculazione edilizia sono fenomeni reali, concreti, hanno precisamente dei soggetti che li portano avanti, dei poteri economici che li gestiscono e dei poteri politici che in qualche modo li avvallano o li coordinano. E quindi per questo mi sembra importante dire che la criminalizzazione delle condotte devianti è una cosa che va di pari passo con i progetti di grande speculazione immobiliare che ci sono nei territori, perché altrimenti sembrerebbe una cosa che avviene nel mondo della cultura e non si capirebbe quali sono i processi concreti che la fanno sviluppare. Poi un'ultima cosa che secondo me manca un po' da tutto il dibattito, ma per concludere soltanto la accenno. Abbiamo parlato anche di quello che succede nel carcere, ma una delle cose che si diceva appunto negli anni 70 quando si metteva in discussione la questione del manicomio era una cosa che la diceva anche Basaglia, la criminalizzazione del bisogno. Questa è un'espressione che non avevo ancora sentito oggi e che mi sembrava però necessario portare. La condotta deviante che viene criminalizzata è appunto un modo attraverso cui la società esclude e gestisce una serie di bisogni che appunto non devono essere presi in carico, non devono essere considerati e quindi vengono criminalizzati. Secondo me se noi vediamo la questione da questo punto di vista, assumono molta più comprensibilità alcuni aspetti delle dinamiche che anche giustamente sono state indicate oggi e che però probabilmente necessitano di essere messe in un quadro concettuale un po' più articolato come già aveva provato a fare il dottor Vistoli prima. Grazie.